Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale Eccoci qui di nuovo con Shadow Blade Reload Riprendiamo da dove ci siamo lasciati Vorrei fare ancora qualche video perché il gioco è veramente una figata Quindi proseguiamo la nostra story mode Abbiamo fatto 1, 2 e 3 Dobbiamo fare il quarto Se riusciamo ad arrivarci Riusciamo ad arrivarci Ok il quarto Sempre difficoltà normale Direi ok prontissimi Cos'è boss Ok voglio insegnargli un po' d'onore Attenzione arriviamo noi con cattiveria Bene Spero che questo gioco vi stia piacendo ragazzi Perché come detto mi piacerebbe portarvene un po' di episodi Magari facendo appunto video abbastanza brevi Abbiamo protetto Ok E' arrivato qualcuno Chiamoto si chiama Chiamoto si chiama Quello giù è il soggetto nessuno Master Shiro E' un piacere vederti Di nuovo Attenzione scatta la rissa Ah noi dobbiamo scappare Ok Sedamo Eh vediamoci Poi i colori sono anche molto Fai Molto accesi Aspetta voglio vedere se c'è qualcosa lì So no ok Ok questo ci nasconde delle Attenzione Mamma mia la cattiveria Secondo me questo gioco pian piano ci farà Soffrire non poco eh Questa strana Sensation Merda Cazzo Maledizione Che cos'è Aspettate Eh perché qui dobbiamo Prendere bene Il tempo Ok Vaffanculo La Scusi eh Guarda sto bastardo Noi con cattiveria Ti facciamo fuori Giovane Ehm Qui possiamo Ahia Attenzione Cazzo Eh pensavo mi Eh facciamo una cosa Andiamo prima sopra Pensavo si agganciasse Quello Lì Occhio Eh possiamo scendere anche così Almeno Oppela Cazzo Eh che stronzata Facciamo fuori prima questo Poi Questo qui E poi Eh poi è la cacata In mane Venga qui Aspetta Maledizione No ci dobbiamo riuscire In realtà Ah no non ce l'ha dato Attenzione Aspetta Cazzo Merda Occhio Attenzione Mamma mia Il panico Si perché poi I salti questi sono Quindi dobbiamo tenere D'occhio Dove andiamo Fafaculo Ok No Allora Cerchiamo di Non far cagate Con la situazione Si inizia a fare più Che cazzo Ah Oppela Scusi eh Anche lei Aspetta Arriva arriva Don't worry Ma non ho capito Se usci da qualcosa Aia Di bonus Aspetta Ah ma ammazzato Malamente Proprio Oppela Ammazzò prima Questi col fucilazzo Fanculo Ci piace Ci piace Ci piace Attenzione Adesso ci ha sbloccato La zona Ok Ho capito Dai che nasconde qualcosa Lo so Non è vero Che vuole questo Stinger Ci dica Stinger Mortacci Sua Vaffanculo Aia Eh giustamente Lo stinger Ci insegue Il missilozzo Aspetta Cazzo No ci siamo saltati qualcosa Come cazzo Ci arrivavo là Aspetta Voglio capire Se ci arrivo In qualche modo Ah si Da qui Eh vabbè Come cazzo Ok Ok Moment Merda Mamma mia Attenzione Rischio E basta Il figlio Di muro Alla sopra Tacci vostra Aspettate Devo cercare Di Di insinuarmi Lì sopra Ok Don't worry Si però Ci siamo saltati Una parte Di là Mortacci tua Ah no In realtà No è Questa è la parte In più Che abbiamo fatto Quindi Possiamo scendere Da qui Ah e l'abbiamo finito Ci siamo saltati Un pezzo Però Aspettate Come cazzo Faccio ad arrivare Là scusate Ecca là Vaffanculo No però Sarà Queste Pignoleria Ma Vaffanculo Eh Eh scusate Questo era da Prendere Occhio Però è molto molto Faio Anche i giochi Di luce Di luce Mi garbano Ok Vabbè Vi ho raccattato Tutto Certo Non avremo Magari Una valutazione Altissima Messo che Siamo morti Un po' Troppe volte Però Perlomeno Abbiamo preso Tutto Eh B Vabbè Dai Pronti per il prossimo Livello C'è qualcosa qui Pè secondo me ci nasconde qualcosa Questa zona Ah questo è tutto Di Vaffanculo Attenzione La Eh Non lo so se c'è qualcosa qui sotto Ma Onestamente Non so se ne valga la pena Aspetta Ok La Ah giovine Aspetta Cazzo Oh Pela Ok Prima l'abbiamo preso Occhio che qua Sto cade Idem Pela La Attenzione Snici Bastard Che fa questo? Questo Chiamano gli altri Sono Aia Mortacci tua E mica è morto Sto Bastard Cazzo però Devo riprendermi Un momento No Vacca Troia Aspettate Qua iniziano Le Le prime Difficoltà Allora Calcolando che il checkpoint È un po' lontano Dobbiamo stare attenti Molto attenti Bacca Troia Occhio No Assolutamente Dobbiamo Aspetta Oppela Ma che è ancora vivo Vaffanculo Mi ho saluto tutti Gli shuriken Ok Salvataggio Grandissimo Attenzione Ok E basta Questi cosi Quelli Quelli dove hanno sopra Ok Eh ok Più o meno Perché poi quando ci Aspetta Merda Merda Cazzo Eh aspetta Perché qua Oppela No Allora Facciamo con lo spiritoso Giovane Guarda che Con che leggiadria No E basta Allora Un momento Attenzione Attenzione Ok Aia No Cazzo Aspetta Qua Vaffanculo C'è un cosia Sti cazzi No Secondo me ci serve Aia Eh aspetta Allora mi sa che abbiamo fatto una cazzata Come faccio adesso ad arrivare di sopra Zitti zitti Per un pelo Ok Eh Mamma mia Comunque Cattiveria Allora Occhio a quello Occhio Eh Bastardo Fino in fondo La giovane Eh Una volta mi freghi Che per te basta in realtà No ci siamo saltati un bonus Cazzo Cazzo Maledizione Maledizione Avanti il prossimo livello E qua A meno Ci sta tutto Ci sta tutto Non ci dobbiamo lasciare indietro Bonus E soprattutto Non possiamo morire così Aspetta Aspetta Uno Poi Non so cosa servono Merda Vacca Di quella Gran troia Aspetta 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 Salviamo qua Poi scendiamo Facciamo Un tacco Punta Così Oppela Ok Aspetta Dovrei scendere Qui sotto Di su Di nuovo qui per Così Non so Merda Cazzo Sto No La troia Tra l'altro Aspettate Me l'ha preso Quello Dimmi di si Si forse È risalvato Dopo Non so Merda Occhio Guarda Sto Bastardo Ma non è E muori Se no da qua Io dove vado Qui Secondo me Ci sono Saltati qualcosa Vabbè Secondo me Merda Faccia poco Lo spiritoso Giovanotto Merda La troia Di Eva Ok Iniziamo a capire Le difficoltà Devo dire Merda Scusi Non è per niente Facile Eh cazzo Però qua No Oppela Eeeh Fatto la Stronzata io Qua Cazzo Eh quello Non è per niente Facile da prendere Però Aspetta Ok 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 Oh mamma mia La difficoltà Inizia ad essere Un po' più Aspetta Lo cazzo Devo andare Un po' più Impegnativo Ok Basta Con sti cosi Pezzi De manine Giovani No Eh vabbè Mi spia Aia Pensavo di averlo Ammazzato Quel bastardo Invece no Ci ha inchiappettato Via Così Come Se non ci fosse Un domani Questi che fanno Gli spiritosi Così Là Mamma mia Occhio qua Grandissimo Oh per Eh qua ne abbiamo saltati Tantissimi Oggetti Va bene A questo punto ragazzi Io direi che ci possiamo Salutare qui con questo Episodio Torniamo Alla nostra Mappa Siamo arrivati A livello 7 Al Tempio 7 Presumibilmente Mi raccomando Come sempre commentate Fatemi sapere la posta Seguite anche sul primo canale E sul Sulla pagina facebook E Fatemi sapere Se questo Shadow Blade Reload Vi stia Piacendo o meno Noi ci vediamo con i prossimi Appuntamenti Un saluto a tutti Da Qualtaleale Noi ci vediamo con i prossimi Noi ci vediamo con i prossimi